Al contrario di Elena, ahimè, io invece l'impianto, come lo ricordo, mi lega a questo impianto una cosa molto molto importante, il fatto che io qui ho arbitrato la mia primissima partita da Real Serenissima Dinamo, purtroppo due società che adesso non esistono più, quindi che una generazione giovane, nuova, disegni qualcosa che ha rappresentato per le vecchie generazioni qualcosa di così importante per la città, per la terra dei calci, per l'azienda Astra è qualcosa sicuramente di molto 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 bello. Io ringrazio tutti quanti di voi, tutti i miei fossi che hanno collaborato, tutte le varie cooperative che hanno potuto realizzare questo progetto. Grazie di nuovo e cercheremo di quella scritta che abbiamo sulla maglia, di onorarla il più possibile. Grazie. Grazie. Grazie.